Sposi Verona ha organizzato nella giornata di domenica 4 ottobre a Pastrengo un evento sul mondo delle nozze. È già il secondo anno che organizziamo questa manifestazione, quest'anno abbiamo avuto un'affluenza sicuramente maggiore rispetto all'anno scorso, ci siamo però presentati al nostro pubblico anche con un programma più ricco e sicuramente più coinvolgente. Ma il clou della manifestazione è stata la sfilata degli abiti da cerimonia e da sposa. È andata benissimo, un'ottima affluenza, un evento sicuramente elegante, delicato che è stato comunque anche introdotto ed accompagnato dall'esibizione di tango argentino. E poi a conclusione per chiudere in maniera triunfale la giornata, taglio della torta anunziale e un arrivederci all'anno prossimo. Insomma, una giornata utile ai futuri sposi per organizzare le loro nozze.